Nuova pausa pranzo, nuova pausa remix. Nel remix di oggi vedremo il meglio di Geppi Cucciari. È che purtroppo ultimamente sono un po' tesa e ho abusato di cioccolato. E il cioccolato si sa non perdona, sta tre minuti in bocca e tre anni in culo. A noi basta incrociare lo sguardo con un uomo per più di 12 secondi da media world che chiamiamo la nostra amica e le diciamo è fatta, qua ci scappa l'anello. L'anello, maschi, avete presente cosa è l'anello? Che per noi donne è il simbolo dell'impegno, della fedeltà, dell'amore eterno. Per un uomo l'anello è un buco con la tredicesima intorno. Che poi gli uomini sono convinti che le donne vogliono fare all'amore al buio perché così non si vedono i nostri difetti, non si vedono le cosce, non si vede la cellulite, non si vede la pancia. Cioè a voi non è mai venuto il dubbio? Che non è che noi non vogliamo vedere a noi, non vogliamo vedere a voi. Loro hanno inventato il regime di terrore delle taglie, S e N, L, lo sapete cosa vogliono dire? S vuol dire, sì sì, lo so che sono magra, M vuol dire mi sta bene tutto, maledetta aggiungo io, L vuol dire lo so che sono grassa, mi piacciono i ravioli, fatti i cazzi tuoi. Per esempio noi donne, tutte quante, avevamo nell'armadio un paio di jeans che non ci stanno, ma noi li tenevamo là, non si sa mai, passa un controllo. Appena ci sentiamo un pochettino più asciutte, basta anche saltare la prima colazione, andiamo a provarli. Niente, a me di solito al ginocchio mi si fermano. A domani!